Buongiorno a tutti, oggi facciamo un questionario del tamburrino. Chi era il tamburrino? Il tamburrino era un soldato che suonava il tamburo. Cosa vede il tamburrino sul lago? I trecini che si sono trasformati in pangiulle e notavano nel lago. Tutti i trecini se ne sono volati, due si ne sono volati e uno no. Perché un gigno non è volato? Perché non aveva le penne. Cosa trovo sul tavolo il tamburrino? Sul tavolo trovo un po' di indizi, delle istruzioni. Cosa c'era scritto sul foglio? L'istruzione per trovare la moglie. Cosa raccoglie sul cespuglio? Tre fiori azzurri. Quanti giri deve fare del mondo delle foche? Tre giri. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie.